120 ragazzi della provincia di Napoli sperimenteranno nei prossimi giorni la complessità delle relazioni diplomatiche all'interno dell'ONU. Al maschio angioino dal 20 al 22 gennaio gli studenti provenienti da 20 scuole saranno gli attori di IMUN, una simulazione guidata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in cui ricopriranno attivamente il ruolo di ambasciatori e diplomatici. Un percorso che possa condurre loro a un maggiore senso della cittadinanza, dello scambio, della consapevolezza anche delle profonde diversità culturali e dei punti di vista politici in primo luogo ma anche sociali e relazionali che è un po' anche il messaggio intrinseco delle Nazioni Unite. Quindi costruire un'Assemblea, una simulazione ONU in questa città che è chiaramente un crogiuolo, un luogo di profondo incontro di diverse culture è secondo noi un passaggio molto importante. Un apprendimento sul campo utile a formare cittadini consapevoli del ruolo delle istituzioni nella costruzione dei destini collettivi. Saranno inscenati i lavori di due commissioni con discorsi proposte di risoluzione e veri e propri negoziati. Il laboratorio è organizzato dall'associazione italiana United Network in collaborazione con l'organizzazione statunitense IMUNA, il Comune di Napoli e l'ufficio scolastico regionale della Campania. Un'esperienza importante per loro come cittadini e cittadine, un'esperienza importante per la città di Napoli perché alcuni di questi ragazzi e ragazze saranno ospiti a New York nella vera e propria Assemblea delle Nazioni Unite negli prossimi mesi. Le attività si svolgeranno in lingua inglese e gli studenti dovranno indossare l'abito formale prescritto dal protocollo ufficiale. Noi siamo moralmente, storicamente la capitale del Mediterraneo. Che i nostri ragazzi e le nostre ragazze abbiano occasione di dialogo per costruire rapporti con altri paesi è un fatto importante per loro e per la città.